Questa sera 6 febbraio 2018 partirà la prima puntata del festival di Sanremo 2018 la famosa Kermes Canora per eccellenza dunque si prepara al suo avvio ufficiale e il simpaticissimo Rosario Fiorello ha deciso di parlare proprio della puntata odierna dove vi ricordo sarà ospite speciale e cosa avrebbe detto Rosario? Avrebbe detto le seguenti parole se stasera va male per me è finita starò 10, 20, 30 minuti al massimo 50 mi mettono la sigletta e via e poi sarebbe arrivata vi ricordo una battuta proprio in merito a questo festival da parte di Rosario e sarebbe stata la seguente se tornerò in Rai punto di domanda beh dipende da stasera se andrà bene chissà se dovesse andare male finirebbe tutto e continuerei solo a fare radio e live bene questo dunque sarebbe quanto dunque Rosario da quale da mattatore simpatico quale è appronta un discorso dialettico insieme alla folla che lo ascolta in religioso silenzio e fa sapere in buona sostanza che bisogna vedere come andrà questa sera anche per capire eventuali e futuri sviluppi bene vi ringrazio per l'ascolto bravo fiorello sempre divertente sempre simpatico sempre in gamba anche nella veste di showman quale è bene un saluto iscriviti commenta fammi sapere cosa ne pensi e buona sera da te e famiglia e complimenti a Rosario fiorello specifico infine che questo video non vuole assolutamente violare la privacy di fiorello ma solo informare eventuali persone nel rispetto della privacy di Rosario fiorello grazie a tutti